ciao a tutti e bentrovati o bentornati sul nostro canale youtube oggi la settere immobiliare vi propone in vendita in via mariano stabile tra il porto e via roma un locale commerciale di categoria catastale c1 posto al piano terra con ingresso da ampia vetrina su strada l'immobile che si presenta in ottime condizioni ha una pavimentazione in ceramica uniforme i tetti sono dotati di controsoffitto ignifugo con faretti e lampadine a neon inoltre è presente un impianto di condizionamento d'aria a soffitto percorrendo la sala d'ingresso il locale ci mostra questa ampia sala quadrata l'impianto elettrico è a norma con regolare certificazione adesso iniziamo ad esplorare il retro bottega cominciando da quella che in passato era utilizzata come cucina questa era la cucina questo ambiente che si trova in fondo all'immobile ha una dimensione di circa 40 metri quadrati antibagno e bagno l'impianto idrico è a collettori con tubi in rame da questo ambiente grazie alla scala che potete vedere è possibile raggiungere la cantina la cantina ha una dimensione di circa 40 metri quadrati per fissare un appuntamento o per ulteriori informazioni contattaci al 329 216 03 94 anche tramite whatsapp se questo video vi è piaciuto vi invitiamo a mettere mi piace e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale e attivando la campanellina verrete aggiornati sui prossimi contenuti per vendere affittare o comprare casa affidati a toni di maria grazie a tutti